È pieno, siamo costretti a imbarcarli. Dovrei pagare 25 dollari a bagaglio. Certo che no, signore. 25 dollari sono per il primo bagaglio. E poi sono 40 dollari per ogni bagaglio extra. Signore e signori, è il capitano che vi parla. Allacciate le cinture e buon viaggio. Alve! Salve, pufe! I with my tail, baby foots, I with my tail, baby foots, I with my tail, baby foots, I with my tail, baby foots. Di nuovo, bello, eh? Altro che... A gennaio. Con i chipmunk... Arve! Sarà un naufragio. Basta con questa spiaggia, troviamo del cibo vero. Il mio tesoro, il mio tesoro. Ok. Come il re del mondo! Oh, davvero? Basta con questa spiaggia, troviamo del cibo vero. Basta con questa spiaggia, troviamo del cibo vero. Basta con questa spiaggia, troviamo del cibo vero. Abbiamo acceso il fuoco! Se adesso dovesse passare un elicottero, ci vedrà. No! Al-Vin Superstar 3! Su Salve Che Può! Roma, Roma ma! Gaga, ooh la la! Want your bad romance! Prossimamente